La nostra è la civiltà del libro. Fin da tempi remoti il libro ha trovato una sua importanza. Si è passati dal papiro alla pergamena, dal volume che si attorciglia al codice e in generale il mondo europeo, il mondo greco, il mondo romano e poi il mondo medievale sono stati segnati da questa importanza del libro. Pensiamo all'inizio del Medioevo, alla fine dell'Etat antica con i monaci medievali, le monache che copiano diligentemente i testi del passato, quindi questa specie di culto del libro che viene tramandato, di questa cultura, di questo esercizio della ragione. E poi il libro diventa importante nelle scuole cattedrali, diventa importante nelle università, piano piano, fra il 1000, il 1100, il 1200, la richiesta di libri si fa sempre più insistente e più ricca. In Italia, fra il resto, viene inventato un tipo di carta, la carta di Fabriano, che ha delle caratteristiche straordinarie rispetto alla carta precedente, è sicuramente più resistente, viene prodotta in maggior quantità, riesce ad assorbire e a mantenere l'inchiostro per lungo periodo. La carta italiana si diceva fino a non tantissimo tempo fa. Ecco, abbiamo questa richiesta di libri che sale, che aumenta e nel 1455 un tedesco di nome Johannes Gutenberg con alcuni collaboratori inventa la stampa a caratteri mobili. È un'invenzione di sintesi, perché? Perché Gutenberg prende delle invenzioni che c'erano già. La carta per il libro, abbiamo detto, la carta italiana, il torchio, le conoscenze meccaniche che la civiltà delle macchine, così veniva chiamata proprio la civiltà medievale, aveva tramandato, però mette tutto insieme e inventa questi caratteri mobili, questa possibilità di stampare in breve tempo tanti libri. Probabilmente il suo è un intento economico e culturale e religioso allo stesso tempo. Gutenberg era un uomo legato al mondo dei Francescani, forse anche per questo che sceglie come primo libro la Bibbia, ma in generale anche economicamente quella era l'operazione giusta, perché i libri teologici e i libri filosofici erano quelli più richiesti. Si butta in questa impresa 180 copie di questo libro veramente imponente, di due volumi, 42 righe per pagina, in parte su carta italiana, in parte su mergamena, con questo inchiostro che sicuramente è costato, grandi studi, fuligine, carbone, più zolfo, più rame, più ombo, deve rimanere, con questo gusto anche della bellezza preso dai manuscriti del passato, e voilà, la stampa fa la sua comparsa. Grande entusiasmo, in particolar modo nel mondo religioso, nel mondo dei dotti, per cui questi libri, che bello, possiamo avere più libri a disposizione. In pochissimo tempo la disponibilità dei libri aumenta in maniera esponenziale. Nel 1450 in Europa abbiamo fra i 200.000 e i 300.000 codici manoscritti trasmessi da un secolo all'altro. Nel 1500, a soli 50 anni dall'invenzione di Gutenberg, abbiamo già tra i 10 e i 20 milioni di esemplari di libri a stampa. L'Italia la fa da protagonista, il 40% dei libri stampati prima del 500 è in Italia. Questi libri sono libri, ripeto, religiosi, culturali, filosofici, per lo più è questo l'ambito in cui si decide di pubblicare. Anche molte donne, soprattutto in Italia, pubblicano testi di questo genere. Però a un certo punto qualcuno si accorge che la stampa può essere utilizzata anche per dei fini politici. Chi si accorge di questo? Nel 1517 Martin Lutero dà vita, come sappiamo, alla riforma protestante. E' un monaco che non avrebbe tantissima influenza se non fosse appoggiato da alcuni principi tedeschi, i quali principi tedeschi vedono nel protestantesimo la possibilità di prendere due piccioni con una fava. Se ci facciamo protestanti, da una parte ci stacchiamo dall'imperatore che è cattolico, Carlo V, e quindi assumiamo una maggiore autonomia riguardo al potere secolare. Se poi ci stacchiamo dalla chiesa di Roma, acquistiamo una maggior ricchezza, perché i beni della chiesa, i conventi, le chiese, le terre, entrano in nostra proprietà. Ebbene, i principi tedeschi e Lutero si accorgono che la stampa può essere il materiale, il combustibile, per far divampare l'incendio. E sappiamo appunto che fu proprio l'invasione di questi opuscoli a cambiare la storia dell'Europa, la storia dell'Europa cattolica e mediterranea, se vogliamo, e la storia dell'Europa del Nord. Lutero però si era consegnato in questo modo un po' mani e piedi ai principi. E quindi quando nel 1525 ci fu la famosa protesta dei contadini, la guerra dei contadini, si trovò a dover obbedire a quei principi che lo avevano appoggiato e che avevano diffuso i suoi opuscoli. Ecco che in questo celebre libello, anche questo molto diffuso, Lutero non ebbe così scrupoli a dichiarare. Un sedizioso non è degno che gli si risponda con ragionevolezza, tanto non capirebbe. Con il pugno si deve rispondere a quegli zucconi, sì che il sangue gli coli dal naso. Anche i contadini non intendevano dare ascolto e addirittura non lasciarono parlare. Allora si dovette stappar loro le orecchie con palle di schioppo, tal che le teste saltarono in aria. La potestà della terra, i principi, altro non è se non lo strumento dell'ira del Signore contro i malvagi. Perciò, come già scrissi più volte, dico di nuovo, verso i contadini testardi, capardi e accecati, che non vogliono sentir ragione, nessuno abbia un po' di compassione, ma percuota, ferisca, sgozza, sgozi, uccida, come fossero cani arrabbiati. Questo è l'opuscolo più politico, se volete, l'opuscolo che i principi stessi in un certo senso gli hanno chiesto. Quello che farà dire a Tommaso Campanella, che Lutero è il Machiavelli della fede, e a Frederick Engels, l'amico di Marx, che Lutero è stato l'eccapiedi della monarchia. Ma in un modo o nell'altro a che cosa abbiamo assistito? Abbiamo assistito al primo uso politico, consapevole, scientifico, della stampa da parte dei sovrani. In questo stesso periodo i sovrani danesi, il sovrano svedese, fra un po' il re d'Inghilterra, Enrico Ottavo, metteranno la censura sulla stampa, decideranno loro quali libri possono essere stampati e quali no, ma soprattutto incentiviranno la produzione di libri volti a legittimare la loro politica religiosa, Enrico Ottavo si proclamerà capo della chiesa anglicana, ma anche la loro politica economica e la politica di tutti i giorni. La stampa è dunque in questo modo diventata un grande strumento di potere, pur essendo nata come qualcosa che aveva come fine soprattutto la diffusione del pensiero religioso, culturale, filosofico e letterario.